Per la serie Barzellettiamo abbiamo qui l'arbitro più qualificato d'Italia e forse d'Europa, 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 c'è un grande arbitro, però la cosa particolare è la simpatia delle barzellette, per cui raccontami almeno una barzelletta più che tu torni lì. Allora due genitori avevano le figlie a scuola insieme, si incontrano dopo tanti anni e uno gli fa, dice, beh, tua figlia che lavoro fa, cosa fa? Guarda, mia figlia lavora in un ufficio, sono talmente contento perché la trattano bene, è un bel ambiente, il padrone, il vecchio, gli fa dei regali, gli ha regalato un orologio d'oro perché è bravo e io sono contento, sono proprio contento e dice, poi anche il figlio la tratta meravigliosamente bene, la porta a fare dei viaggi, la porta in crociera perché è brava e io sono contento e il tuo figlio invece cosa fa? Ah, dice, fa la puttana anche la mia ma non sono mica contento.